La Juve sbanca la San Siro rossonera con un tiro deviato del grande ex Manuel Locatelli che tra l'altro grandi similitudini questa sera segnò proprio il 22 ottobre di 7 anni fa se non erro 6 anni fa, quindi una cosa veramente clamorosa il cerchio che si chiude, vi ricordate quel gol lì, era un Milan sicuramente meno attrezzato di questo per usare un eufemismo, fece un gol pazzesco praticamente tirando all'incrocio dei pali dal vertice destro dell'area di rigore fu una vittoria comunque storica in quegli anni lì per i rossonieri e soprattutto per il ragazzo classe 98 che ora 25enne, si è preso da un po' il centrocampo della Juve nonostante molti alti e bassi oggi decide questo match incredibile che porta a una classifica ancora più intrigante perché l'Inter ha 22, il Milan ha 21 che per ora a parte il derby ha avuto il percorso più netto 7 vittorie e la vecchia signora ha 20, ma comunque ragazzi è un campionato che ha aperto a tutte ancora cioè a tutte, comunque anche il Napoli, il Napoli ha 17 punti e il Napoli ha comunque sempre secondo me forse insieme all'Inter se vogliamo la rosa più completa a mio avviso del campionato con delle lacune, dei problemi, però un campionato ragazzi ancora per il titolo aperto a diverse squadre la Fiorentina domani se vince e non ha una partita difficilissima teoricamente con l'Empoli va a 20 anche la Fiorentina, quindi ragazzi un bel torneo, secondo me comunque i nerrazzurri rimangono i più forti l'unica squadra che può avere secondo me un filotto magari anche di 7-8 vittorie consecutiva anche se poi sappiamo che a volte Inzaghi nella gestione sbaglia qualcosina poi l'Inter per me ha delle lacune in attacco, tolti Lautare e Turam però secondo me forse è la più completa. Brutta partita questa sera secondo me diciamo era partita bene perché i primi 15 minuti molto di intensità il Milan era partito meglio, sembrava voler fare la partita la Juve 3-5-2, molto chiuso Ken Milik davanti, quindi una punta più di raccorde una che magari va in profondità, che sgroppa in contropiede e infatti al quarantesimo dopo, diciamo, l'unica grande occasione era stata creata da Leao con un'azione clamorosa, però il Milan gioca troppo su Leao cioè il Milan si deve evolvere in questo qua perché, voglio dire, si sa, raddoppi Leao e se lo fermi praticamente blocchi il 60% delle sortite rossonere comunque in quell'occasione lì, bravo Leao su Gatti palla in mezzo, Giroud Giroud fa una cosa d'attaccante, veramente d'attaccante per Antonio Masia c'è la controlla, nonostante il difensore lì che lo aggrediva, rugiva su di lui e tra un po' lì fa gol perché poi lì è un miracolo di Scesni e lì Giroud è bravissimo a incrociarle anche in mezzo alle gambe del difensore e Scesni cala una parata da 10 veramente, si rifà magari di qualche errore passato però al quarantesimo palla di guai in profondità per Ken ecco, devo dire Weah che nonostante non mi piace granché perché poi tecnicamente è molto acerbo anche un po' tatticamente però devo dire l'ho visto in crescita secondo me è un ragazzo che giocando, trovando continuità può aumentare il livello sicuramente, comunque palla per Ken che la fa scorrere beh, fatti io che io mi ricordo anche nel derby si era fatto fregare da Turam e fa un errore clamoroso Ciao, secondo me, scusate la pronuncia nella difesa 3 l'anno scorso aveva dimostrato grandi qualità però è diverso difesa 4 tanti errori cioè il giocatore c'è sicuramente il ragazzo c'è però questo è un errore da matita rossa è chiaro, non puoi farti fare da piede perno fare da perno a Ken farti fregare lo atterre e il rosso c'è perché lì tu morirei indietrissimo magari poiché non avrebbe segnato però rosso net poi lì è cambiata la partita nì perché poi comunque nel secondo tempo il Milan ovvio non è che ha potuto più attaccare come nel primo però ha già dato un attimo all'inizio della seconda frazione che ha conquistato anche diverse punizioni consecutive ha premuto senza creare granché Juve sempre ripeto molto scialba dal punto di vista del gioco anche McKennie male anche lo stesso Locatelli nonostante il gol poi non benissimo però è nato questo gol palla di UEA non a caso che ripeto è stato un giocatore lo statunitese tra i più presenti comunque nella partita poi sbagliando anche però nel Canovaccio insieme a Costi è stato tra i due giocatori che vi hanno comunque ha attaccato di più toccato più palloni palla per Locatelli che dà oltre secondo me 25 metri calcia un tiro secondo me parabilissimo perché a mezza altezza né angolatissimo né fortissimo deviato immancabilmente da da Krunic che tra l'altro era appena entrato anche lui deviazione un po' goffa anche tanto sfortunate il povero Mirante che poi farà poi della parata su Cambiasso Vlaovic molto importante il quarantena Mirante non può nulla sì classico gol allegriano perché io non so Allegri gli allegri beccano sempre questi gol quindi se vogliamo la vittoria quando si vince è sempre meritato però non è stata neanche tanto cercata dai bianconeri che però hanno legittimato perché poi ripeto con Vlaovic due conclusioni una su ribattuta di Cambiasso lì Mirante veramente ha fatto due bei miracoli e il Milan non ha avuto più la forza e poi io lo continuo a dire allora Jovic non è il giocatore adatto per questo Milan perché Jovic è un giocatore d'area di rigore e basta e il Milan non ha bisogno di un giocatore d'area di rigore cioè Giroud vedete che fa anche un grande lavoro di raccordo viene fuori poi è un giocatore superiore il Milan comunque in casa continua ma questa è la storia un po' del Milan di Pioli ha fatica a condurre il gioco con continuità a produrre va a folate vanno a folate i rossoneri e Jovic non è un giocatore che va a folate proprio nulla non sa fare da raccordo non è veloce non è il giocatore che serve è stato un acquisto come flop ma proprio non per il valore in sé ma proprio per caratteristiche e se manca Leao signori manca tanto poi oggi hanno giocato un'ora in dieci non è facile la Juve non ha fatto tantissimo per vincerla però comunque i tre punti la porti a casa quindi adesso i fatti dicono che l'Inter il Milan e la Juve sono in lotta a Scudetto sono racchiusi in tre punti per me tra le tre anche considerando poi il derby lo sconto diretto quella che ha dimostrato di avere qualcosa in più è l'Inter che però io dico sempre una cosa se all'Inter dovesse mancare l'autaro un mese chi gioca? Turam Sanchez c'è da mani nei capelli quindi poi lì vedremo poi ma vabbè pare che l'autaro magari non si infortuna però magari potrebbe avere una flessione però è un torneo ragazzi molto aperto perché come ho detto tutte le squadre hanno i loro difetti e magari probabilmente non ci sarà il Napoli dall'anno scorso come diciamo ormai è lampante è chiaro non ci sarà la squadra che ammazzerà il campionato comunque partita comunque non mi ha sicuramente entusiasmato ha vinto anche l'Atalanta quindi praticamente da parte il Milan hanno vinto tutte vediamo la Fiorentina domani però noi comunque abbiamo vinto abbiamo accorciato cioè accorciato comunque un'inizione di fiducia 13 punti però siamo ancora un pochino in ritardo visto l'inizio diciamo abbastanza zoppicante ecco per non dire disastroso niente ragazzi like al video seguitemi su Instagram e commentate ovviamente con la vostra opinione ciao ciao